Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di Consigli per gli Acquisti Disney, la rubrica in cui commento le anteprime di anteprima per l'appunto relative a panini Disney. È una cosa che devo fare per forza così, non posso fare a posteriori, cioè con i volumi in mano, come facevo un paio di anni fa, perché le uscite della Disney sono molto scaglionate all'interno del mese. Dunque si va irrimediabilmente in ritardo poi e non si è sul pezzo, si rischia di non essere più utili. Io ho già aperto la pagina, come vedete, relativa a panini Disney, sul sito della panini trovate la checklist appunto della Disney, ho già letto tutto quanto, non farò finta quindi di fare un video reaction falsissimo, come fanno alcuni colleghi qua su YouTube e inoltre ho visto che non si possono manco fare le cose leggendole insieme a voi, perché andrei poi a risultare offensivo o a insultare determinate iniziative che non incontrano proprio il mio favore, dunque lo faccio in maniera un po' più fredda, un po' più asettica, in maniera anche da riassumere meglio. Dunque, all'inizio c'è un'editoriale della De Poli che ci spiega un attimo gli eventi che ci saranno al Comicon di Napoli. Si è dimenticata l'evento più importante che sarà il raduno della pagina, della nostra pagina, ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon dei Paperoni. Infatti, il 29 aprile faremo questo raduno che vedrà per la prima volta riuniti ben tre admin su quattro, sono presenti io, Giacomo e Francesco, però questo la direttrici di Topolino non lo dice, quindi è una mancanza secondo me abbastanza grave. Inoltre, vabbè, se vi interessano poi gli eventi del Comicon li potete leggere sul sito. Abbiamo poi delle anteprime per quanto riguarda i numeri di Topolino del mese di maggio, che sarà abbastanza pieno. Allora, abbiamo l'operazione ciclismo d'autore, che parte il 3 maggio con Topolino 3206, che vuole celebrare il centesimo giro d'Italia. Poi abbiamo l'episodio 3 di Pickup vs Moldrock, cioè la terza puntata del raggio di Moldrock, che io aspetto veramente con molta ansia, perché le run di Artibani e Pastrovicchio su Pickup mi piacciono moltissimo, un po' meno quelle di Sisti e Sciarrone, ma vabbè. Poi abbiamo Grande Ritorno di Edgar Allan Papero, che a me non piace affatto, perché, boh, non incontra molto il mio favore il modo di scrivere di Secchi, e mi pare che, io sono un grande fan di Edgar Allan Poe, mi pare banalizzi un po' troppo le sue storie e i suoi racconti, quindi non è una novità che attendo con trepitazione. Poi abbiamo il dicesettesimo milione di Zevo Perone, speriamo si fermino al 20, perché ormai, diciamo, nonostante il sedicesimo sia stato molto carino da leggere, la solfa è più o meno quella. E poi c'è una bellissima novità, il 31 maggio, il mio compleanno, hanno deciso di farmi un regalo stupendo, ossia la versione papera, Topolino numero 3210, la versione papera del celebre film L'Uomo senza passato, scritta dal regista Kaurismaki in collaborazione con il maestro Cavazzano. Questa è veramente una cosa veramente molto fica e l'aspetto con ansia, davvero, secondo me, questo Topolino sarà imperdibile, almeno per me, veramente non vedo l'ora di leggere questa cosa, lo ritengo un regalo di compleanno personale, è veramente una buona mossa. Poi abbiamo le iniziative legate al centesimo giro del Calisota, che come è scritto qua, ci saranno praticamente delle medaglie, delle medaglie del giro del Calisota. Allora, abbiamo un battelapesca, che uscirà a maggio, relative alle storie a pedali, alle storie con le bici. Poi, vabbè, insomma, bisognerà poi vedere la selezione che è stata operata. Poi Paperinic 5, che non mi sembra niente di che in realtà, anche per quanto riguarda la storia guest, Paperinic contro Mr. Truss di Julian Jordan, insomma, niente di assolutamente imperdibile. I classici Disney, con una bella storia di faccini, Paperinio e lo splendido persiano, sempre, io sto parlando relativamente a maggio, alle uscite di maggio. Poi Disney Big, con un macchia nera veramente molto fico, disegnato da Corrado Mastantuono. Almeno sembrerebbe macchia nera, se non lo è, allora credo che sia un membro del Cuckoo Scalan. Vabbè. Non mi sembra imperdibile la storia che hanno citato sia Giova Perone e la Capra degli Incas, di Pavese e De Vita. Poi, i grandi classici Disney, che presenta a maggio, con il numero 17, rare storie atomiche, nella sezione Superstar, direi che è in tema con quanto sta accadendo nel mondo, con, insomma, le varie scorribande nucleari dei nostri amici americani e coreani. Paperinio, Topolino ed Etabeta, sicuramente ristamperanno la spia poeta, il ciclo della spia poeta, magari ristamperanno anche la storia di Barks, Paperinio e la bomba atomica. E, qualora fosse così, qualora ci fossero spia poeta e la bomba atomica, sarebbe un numero che sarebbe imperdibile per chi non possedesse almeno il ciclo della spia poeta, che sarebbe veramente un must, un caposaldo del fumetto Disney di tutti i tempi. E penso di sì, perché infatti dopo aggiunge inoltre Topolino e il ritorno della spia poeta. Quindi, insomma, questo è il numero, grandi classici 17, maggio 2017, segnatevelo, bisogna prenderlo. Poi, Paperinic, scusami, Paperino, 444. Niente di che, vabbè. Ah, poi arriviamo a una grande novità, Ridi Paperoga 1, con queste grandi risate, buahahahahahah, splosh, splish, vabbè, grandissime risate. Saranno 3 ore e 50, 64 pagine. Poi, Tito Faraci, Sio e Marco, bolla, nello spirito dello storico Ridi Topolino, si mettono al timone di un nuovo assurdo, in senso buono però, magazine, ossia Ridi Paperoga, in cui ci sarà una storia inedita scritta da Faraci, disegnata da Enrico Vaccini, dal raccomandabile titolo, molto simpatico, bisogna ammettere, Paperoga, Paperino, Zio Paperone e un orso bianco in Dopo la fine. Fa parecchio sorridere, arrivano le storie ridoppiate, questa è una grande novità, arrivano le storie ridoppiate, classici disneyani riscritti, combattute tutte nuove e imprevedibili. Tocca a una storia di poco conto, che, insomma, si può toccare senza alcun problema, ossia Paperino è la leggenda dello scozzese volante, per l'occasione Paperino è la leggenda del cani marchese volante, per i testi di Tito Faraci e Sio. Da quanto ho capito, dato che qua c'è scritto solamente testi, non si fa riferimento ad alcun disegno, inoltre c'è scritto dei classici disegni riscritti, non credo che si voglia dire che faranno una parodia dello scozzese volante, come ha fatto Sio con Topolino e la spada di Ghiacciolo, che a me io non ho apprezzato perché non mi fa ridere quel tipo di umorismo, che però era un'operazione legittima, se vogliamo, perché era dichiaratamente una parodia, scritta con intento umoristico e parodistico. Qua invece si vogliono prendere delle storie classiche, con i disegni di scarpa, con i disegni dei grandi maestri, e scriverci dentro altre parole che dovrebbero far ridere. In quanto a concetto, non mi piace per nulla, quindi, insomma, sono abbastanza contrario a questa cosa, perché, insomma, si va a fare un'operazione da paginetta Facebook senza... cioè, con l'ufficialità della cosa, che è un pensiero che non mi entusiasma più di tanto. Poi, oh, bisognerà vedere se faranno veramente ridere, a me come concetto non fa ridere. E penso che, se veramente fosse così, se veramente si mettono a prendere le storie di scarpa dei grandi maestri e ci scrivono dentro altre parole, forse è un punto ancora più basso per quanto mi riguarda rispetto ai remake di Barks e di Gottfriedton. Poi, tra una gag e uno sketch inediti, anche Archimede e la macchina antistress di Enrico Faccini, che è veramente una bella storia, quindi... peccato per il doppio faccini, perché, insomma, è un... sono delle cose che fanno alzare la qualità del numero, ossia il doppio faccini. Poi bisognerà vedere. Arriviamo a un grande numero di Paperopoli, a quello che si preannuncia, un grande numero di Paperopoli. Sto parlando di Paperopoli 8, dal sottotitolo Grandi Re e Corone, che presenterà di Paperone la corona dei Re Crociazzi di Dorrosa, e poi le giovani marmotte e il salvataggio del lago di Dan Ipes. Inoltre ci sarà Maraja Donald, ossia Paperino e le Tigri Reali, che è una storia ambientata in India, di Karl Barks, è una storia degli anni 40, è 47, c'è addirittura scritto, di Karl Barks, che ecco, questo è un signor numero. Questo è un signor numero, nonostante io abbia tutta l'opera di Karl Barks, penso che lo comprerò solamente per avere in cartaceo la corona dei Re Crociati, che non è mai stata ristampata. Quindi, insomma, spenderei 5 euro solo per questo. È un signor numero, quindi tenetelo d'occhio e compratelo appena uscirà, se vi mancano queste storie. Inoltre abbiamo Topo Storie 38, In Viaggio con lo Zio. Minchia raga, In Viaggio con lo Zio, vabbè. Cagate a parte. È un tema che mi piace molto, questo, su cui si può lavorare molto, perché apprezzo molto le storie del Barks pre-Gio Vaperone, quindi prima che creasse Gio Vaperone, che vedeva Paperino con i suoi tre nipotini in giro per il mondo ad affrontare le più svariate avventure. Erano delle storie che andavano ad approfondire il profondo legame sentimentale e familiare che legava questi quattro personaggi, con Paperino sempre a dover ricoprire un interessante ruolo genitoriale nei confronti di qui, qua e qua. Inoltre erano storie che comunque risultavano sempre appassionanti perché appunto si creavano dinamiche molto interessanti. Penso per esempio a Paperino e l'anello della mummia, oppure a Paperino e la leggenda dell'uomo d'oro, insomma, tutte storie di Barks, prima che ci intruffolasse Gio Vaperone e che quindi, insomma, c'erano dinamiche più da nucleo familiare ristretto e mi piaceva molto. Quindi il tema ci sta tutto. Per esempio, tra le altre, qui ci annunciano già che ci sarà un super classico, un capolavoro, una storia bellissima di Romano Scarpo, ossia Paperino e l'amuleto di Amunsen. Una delle sue prime storie, mi pare forse la seconda con i paperi, che è assolutamente da comprare qualora vi mancasse questa storia. Io ce l'ho, ce l'ho, l'ho letta ed è veramente molto bella. Bisognerà vedere il resto della selezione. Come si presenta questo numero per temi e per la storia già annunciata, secondo me bisognerà tenerlo d'occhio. E stiamo parlando del numero 38 di giugno 2017. Poi, PKGiN32, Virus. Allora, è la ristampa, ovviamente, di PKNA. Questa storia in particolare io non l'apprezzo tantissimo perché sono sempre stato un grande appassionato del filone dei viaggi nel tempo di PK, ossia quelli relativi al razziatore, all'organizzazione, eccetera. O comunque al filone degli Evroniani. Meno, cioè, mi è sempre piaciuto un po' di meno e mi è sempre meno interessato il filone della PBI. Questo virus è intrecciato tra il filone della PBI e quello degli Evroniani. Comunque, insomma, non mi ha mai fatto troppo esaltare. Probiamo Paperinic 6, su cui non ci sono molte cose interessanti a dire perché non ci sono annunci. Poi c'è un altro I like Paperino, quindi una specie di parte 2 dell'altro I like Paperino che era uscito più o meno un annetto fa. e la selezione qua promette veramente bene. Questo uscirà a giugno 2017, presumo per il compleanno di Paperino che cade il 9 giugno. Non penso, poi si metteranno a fare altri I like Topolino, I like Pippo, I like Tegeloperone, I like Paperoga. Penso che questa sia più un'uscita per celebrare il compleanno di Paperino. E presenta delle storie carine, ossia Paperino e il furto della fontana di Savini e Sciarrone, due autori che promettono veramente bene e io non mi ricordo di averla letta, ma insomma già per i nomi coinvolti secondo me è da tenere d'occhio. Poi abbiamo Paperino e Paperotto e l'apparizione spettacolare di Gianatti e Soffritti e poi una storia della Pia su testi di Figus e disegni di Cavazzano, quindi insomma anche questi due autori di tutto rispetto, Paperino e Soffio Scarlato che è veramente una bella storia. Quindi per quanto riguarda le storie già annunciate, secondo me è un numero che potrebbe essere carino. Poi abbiamo Risatissima in cui ci sono due storie complete di Faccini, Paperino e il molosso minaccioso e Paperoga e il servizio imprevedibile, in più Gio Paperone e la convivenza con Otto per Otto, con i disegni di Faccini sempre e i testi di Nino Russo, Topolino e la fruttiera portaguai di Marco Bosco e Tiberio Colantuoni tra le storie annunciate. Allora, questo numero per me sarà bellissimo. Abbiamo già tre storie disegnate da Faccini, due complete, una con Otto per Otto che io amo tantissimo come personaggio, io sono un grande fan di Otto per Otto quindi mi fa piacere rileggerlo, dunque molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, comprerò questo Risatissima, lo so già dalle storie che sono state annunciate praticamente. e anche questo uscirà a giugno. Poi abbiamo Topolino vs Macchia Nera, Macchia Nera è il mio nemico di Topolino preferito in assoluto, anzi il mio nemico Disney preferito in assoluto, quindi sono molto contento che si stia operando un rilancio di Macchia Nera anche relativamente a Dark and Blot. Si può già vedere dalla copertina che ci presenta un Macchia Nera inquietante e non con bocche o pupille o alle elementi che lo possano svilire. Abbiamo Fausto Vitagliano e Silvia Ziche, Topolino sull'isola inaccessibile, non l'ho letta ma comunque Vitagliano e Ziche, anche qua siamo su due autori che sono garanzie. Corrado Mastantuono, autore completo, anche qua grandissimo livello, Topolino e i furti improvvisati, poi una storia di Esteriti e Vitagliano sempre, e anche qui comunque il livello è sempre molto alto. Gabbadina è il mio Macchia Nera e la sfida finale. Questo numero uscirà sempre a giugno 2017 e io lo comprerò sicuramente. Questo per forza. Abbiamo i gialli di Topolino 2 che era una signora testata e presenta delle storie molto belle che però risultano appetibili solo per chi non le ha ovviamente perché abbiamo Topolino e il misterioso organizzatore ristampata un casino di volte di Pezzino e Cavazzano Topolino è l'implacabile vendicatore di Martina e De Vita e Topolino è il carusel dei furti. Il carusel dei furti. Completa di Romano Scarpa. Non credo lo comprerò perché già leggendo queste storie qua le ho tutte, le ho già lette, quindi... Però è veramente una signora testata, quindi qualora non l'abbiate cercate di sostenerla. Abbiamo poi Megalmanacco 5 che è stata invece, diciamo, un po' meno appetibile per quanto mi riguarda, diciamo, per non dover risultare offensivo. Ma il primo numero l'ho comprato di Megalmanacco, ce l'ho anche qui. Farvi vedere, oddio, perché il vostro mattia non dice cacate, ma ce l'ha qua. E non mi è piaciuto, Non mi è piaciuto, dicevo, perché si limita semplicemente a riproporre storie che abbiamo già visto su Mega 2000, Mega 3000 e Mega, quando invece ci sarebbe davvero da pescare del materiale molto più interessante straniero, estero, da riproporre su questa testata proprio preposta a raccogliere il meglio del Disney straniero. Di cosa sto parlando? Sto parlando delle storie magari olandesi con Della, con la sorella di Paperino, oppure le storie danesi in cui ancora vivo Fantomius. Non sto dicendo che queste siano belle storie, perché abbiamo già in Italia il meglio che si può avere a livello di storie Disney. Però, almeno, sarebbero storie interessanti per il pubblico degli appassionati disneyani italiani che non sono abituati a vedere questi personaggi agire. Almeno sarebbero delle scelte interessanti e inedite. Invece, si va sempre a pescare su cose già viste. In questo Mega Manacco 5 abbiamo un classico danese come Zio Aperone e l'elmo del conquistatore di Daniel Branca, che qui è definito il Carbarks delle Pampas. e poi torna José Carriocca con addirittura tre avventure, presumo già viste. Abbiamo poi Topo Maltese, la ballata del Topo Salato, l'edizione stradilusso, porno lusso incredibile, che costa addirittura 40 euro. E niente, presenta in questa edizione qua la storia, poi tutta la storia ridisegnata, scusate il cane, tutta la storia con solo le matite di Cavazzano, e poi, e poi, e poi, c'è un'intervista a Cavazzano anche. Ok. Quindi praticamente abbiamo un'intervista a Cavazzano, la storia a colori, la storia solo con le matite. e basta. E lo vendono a 40 euro. Non lo comprerò sicuramente, perché è un prezzo che io reputo eccessivo, ovviamente non siamo obbligati ad acquistarlo, quindi le critiche lasciano un po' il tempo che trovano. Reputo un po' inutile stare lì a lamentarsi dei prezzi della Panini. Insomma, possono, sono padroni di proporre quello che vogliono, come io sono padroni di dire, per me è troppo, non lo compro. Quindi questo è il mio pensiero. Abbiamo il secondo, Tesori Made in Italy. Vediamo, notiamo, come anteprima ripeta la sua svista di scrivere 50 storie per 50 anni. Infatti, leggo, con il secondo volume della nuova collana Tesori Made in Italy, continua la raccolta celebrativa in 6 volumi di 50 storie del maestro Giorgio Cavazzano. Dico a chi non lo sapesse, che non saranno 50 storie, ma saranno 50 opere, diciamo, anche con tavole inedite e cose di questo tipo. Dunque non sono 50 storie. Abbiamo una vera e propria rarità, l'adattamento a fumetti del classico Disney Basil Investigatopo, che personalmente non è di mio interesse, perché l'ho già in un maestro di Disney dedicato a Cavazzano, quindi non è che mi interessi particolarmente. Poi abbiamo Topolino e la Spada Invincibile di Marconi, già ristampata nella Diamond Edition. In teoria dovrebbe esserci La Strada, sempre di Marconi, sempre ristampata nella Diamond Edition, quindi dovrebbe contenere due storie che sono state ristampate in un volume di un annetto fa. Una scelta molto opinabile, secondo me. Poi Topolino e la Storia della Voce Spezzata di Mezzavilla, che è capolavoro assoluto, quindi quello è veramente una storia eccezionale. Ovviamente non credo che da sola basti giustificare il prezzo dell'albo, anche perché ce l'ho in due o tre versioni, già, quindi per quanto mi riguarda non mi risulta molto interessante questo tesoro in Medinita di due. Abbiamo poi una cosa che è veramente invece interessante, ossia Giovanni Battista Carpi, Classic Yellow Edition, ci voleva. Era necessario, dopo Cimino, dopo Osteriti, anche la Yellow Edition dedicata a Giovanni Battista Carpi. Molto bene che abbiamo corretto in copertina Giovanni Battista Carpi, avevano scritto Gian Battista Carpi che non si poteva sentire, quindi è una cosa molto positiva questa. Sicuramente a giudicare dalla copertina ci sarà Sandopapre e la perla di Labuan, non ci sono altre informazioni sulle storie. Abbiamo una cosa relativa a Etanacomit che non mi interessa e basta. A posto. Queste erano le mie opinioni quindi su Anteprima di questo mese uscito ad Aprile relativo ad alcune uscite di Maggio e alcune uscite di Giugno. Spero che questo mio commento vi possa essere utile o interessante o entrambi. E niente, volevo dirvi di ovviamente iscrivervi al canale per non mancare nessuna uscita, nessuna recensione, niente di niente insomma di quello che cago fuori io. Poi di mettere mi piace alla mia pagina personale e poi a quella che gestisco sia ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon de Paperoni di iscrivervi al gruppo relativo a questa saga a questa pagina qua ossia ventenni paperoni e niente se volete c'è anche il gruppo Telegram insomma una rete mediatica di fan del fumetto Disney a 360 gradi. Io vi saluto vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Buona lettura a tutti ciao.